Volevo chiederti, anche tu hai i tuoi annetti normali, hai i tuoi annetti, ammazza di 83 vedi te, fra me e te è una bella gioventù, la pipì la fai le notte, ti alzi, non rientrava nelle domande, non ancora, perché vado a letto tardi, per cui facci tempo a non fare, io vado a letto, perché ci sono questi ormoni, gli ormoni, ma noi non sappiamo neanche più dove sono, gli ormoni, non quelli che pensi, gli ormoni, vuoi dire gli ormoni, ignorante, ignorante, è vero, è vero, gli ormoni ce li hai ancora, saranno uno spennacchiato, nei ritmi circadiani, sai cosa sono i ritmi circadiani? No, adesso non è che stiamo facendo una lezione di medici circadiani, allora, sono veglia, verso le 3, 4 del mattino, l'ormone del cortisolo si sveglia e tu ti svegli. No, io non mi sveglio, si vede che non ce l'ho l'ormone, ti dico che non ce l'ho, io non mi sveglio, dormo. La pipì non ti scappa? La pipì non mi scappa. A che ora va a dormire? Vado a dormire a mezzanotte e mezza e mi sveglio la mattina alle 8, alle 9 e vado in bagno. A fare indovina? Ma è forte. Tutte le mie amiche fanno la pipì. Ebbene, tu non mi scusate. No, io non la faccio. Pazzesco. Tra l'altro. Un momento di strepitosa follia meravigliosa. No, follia, realtà. No, realtà, realtà. Ma la realtà è follia. La realtà fa più ridere della mia amica più giovane. No, è che siamo... Sai cos'è che mi fa ridere, Ornella? Perché siamo partiti da Sanremo con la musica è finita e siamo finiti a parlare dell'ormone. Ma la notte... No, ma ho delle cose da sapere... Tanti anni che non ci vedevamo perché poi io sono andata a me era. Ma abbiamo detto intanto facciamo diverse puntate di questi incontri fra voi due. Siete d'accordo? Io sì, a me mi è simpatica. Bene, perfetto. Ah, poi la prima... Apro la televisione un po' di tempo fa, un po' di anni. E ti vedo... Il fatto. Sì. Vestita in delle maniere. Cosa hai detto? Vestita in delle maniere. Eleganti. Ebbè, non avevi più la vanoni? Cosa vuoi che ti dica? No, ma una giacca tutta figa. Ah, brava, forte però. Da domatore? Ecco. Ah, mi piaceva molto. Ma quella lì è... Perché avendo lavorato tutta la vita con gli artisti, domatore andava bene. Ma come l'hai comprata? Adesso no, dove l'hai comprata? Che ora apre il negozio. No, no, no. Me l'hanno fatta su... Ma perché un domatore? Ma perché mi lasci a domatori con gli artisti? Ma Ornella li caggia a domarla, Ornella, scusa. No, tu non hai idea. Lavorare con gli artisti devi avere due coglioni d'acciaio. Scusate la parola un po' esagerata. Però è così perché l'artista è fragile. E' vero o no? Sei fragile? Te l'avevo detto? Ha ragione Mara, ha detto che è fragile. Sono fragile perché una loro cosa che non funziona, di cui non sono convinti, sono molto, molto così... Vanno sostenuti. Ecco, vanno sostenuti. Vanno sostenuti, certo. Quei pompieri vanno sostenuti. Vanno assecondati un po'. Vanno assecondati, non esageriamo, se no ti perdi nella notte nel deserto. Voglio dire, vanno aiutati... A proposito di notte, Sanremo, 1968, Ornella è in gara, molta ansia, tensione... Molta, non si ricordava il testo. Riccardo, il testo. L'ansia sono io. Esatto. E mentre tu soffrivi e avevi ansia, guardate questa foto, ecco, mentre tu soffrivi e avevi ansia, cara Ornella, sai cosa faceva Mara la sera? No. A Sanremo, ti stava vicino, ti chiedeva se volevi la camomilla, ma sai dov'era lei? No. Dov'eri Mara? Che caso ne so, non lo so. Mara, nel 68, mentre lei soffriva per l'ansia, dove eri tu alla sera? Al Casinò. Al Casinò. Eh beh, potevo mica... Ma è la Sannia? No, no, scusa. Era tua quella? Sì, è la Sannia, è la Sannia. Ah, con Casa Bianca. Sì, Casa Bianca, sì. La Casa Bianca a che? Eh, Stella, come... A Sanremo. Io avevo delle ansie. E lei andava al Casinò, mentre tu avevi le ansie. No, no, no. Lei alla sera andava al Casinò. La notte, la sera, la sera lavoravo. Di che lavoravo, scusa, dicendimi. E poi andava al Casinò, capito? Certo. Quando tu la cercavi, Mara, 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 Mara. No, Mara, no, ma quando lei dormiva, dormiva. Gli avevo anche scritto sulla mano il testo della canzone, perché era più tranquilla. Ma di qualcosa parliate? Della musica è finita? Della musica è finita. Gli avevo scritto sulla mano, la musica è finita, gli amici se ne vanno, sì. Io mi ricordo Sanremo, dove ero sempre in uno stato pietoso, di ansia, stavo male. E ho detto Cavallazzi e Bigari. Ah sì? Invece ti dice Bigazzi e Cavallaro. E ho detto, voglio che siano solo Cavallazzi e Bigari. Vabbè, è andata bene così, poteva andare peggio. Ah boh, molto. È molto peggio. Allora una volta, per esempio, ero talmente emozionata che ho fatto finta che sono svenuta. Hai detto mi tolgo dai piedi. Hai fatto finta? Sì, certo. Ma quando? Ah! Ma quando? In che occasione? Ero al teatro, non mi ricordavo più le parole. Ma non a Sanremo? No. Dovunque lei se le dimenticava, non è a Sanremo. Cioè, hai fatto finta di svenire? Eh? Hai fatto finta di svenire? No, fin, sono svenuto. Sì, ho fatto finta di svenire, perché non mi ricordavo più le parole. Tu te ne accorgi quando un artista fa finta di svenire? Certo. Io so tutto degli artisti, perché li amo molto, perché poi mi entusiasmano, perché l'artista è formidabile. È nato con questa stella fantastica che però lo fa sudare, capito? Devono guadagnarsi. È vero, fanno una vita complicatissima. È bello, non è bello, l'arrangiamento è giusto, l'arrangiamento non è giusto. Cioè, di che non è vero? Dico che è vero. No, perché sai, eh, voglia di dire. Io ho sempre elegante anche a Sanremo. Sì. Elegante nel vestire. Sì, sì. Anche nel parolaccio. Sì, è vero. Sì.